Bizzarri, di testa, riesce a passare il pallone, Maggiorini verso Birsa, mette il pallone sul sinistro, ancora lo controlla Birsa, dietro per Paoloschi con il destro! Al conto Paoloschi mette il punto esclamativo ed è 4-0 del Chievo Verona sulla Lazio. Ancora una volta azione di ripartezza, questa volta concretizzata nel migliore dei modi della formazione di Marana.